Oggi abbiamo la fortuna di visitare il porto di Ravenna e di questo ringrazio gli amici e colleghi Marco Migliorelli e Danilo Belletti. Un porto veramente affascinante che entra e arriva fino a quasi dentro la città che si sviluppa lungo un canale di oltre 11 chilometri e mezzo. Siamo ospiti in questo momento degli ormeggiatori del porto di Ravenna e quindi ringraziamo ovviamente Mauro Samaritani che è il presidente degli ormeggiatori del porto che ci conduce in questa interessante visita su di una realtà portuale diversa da quella genovese che fa delle rinfuse nell'elemento di grande valore di questo porto e che ci porta a conoscere anche pratiche commerciali ed operative diverse, un po' diverse da quelle che siamo abituati a conoscere noi a Genova attraverso la movimentazione dei contenuti. Grazie.